è arrivato il bodio dai prova prova pedala mettiti in piedi magari in piedi mettete in piedi dai se ti metti in piedi è meglio ora ora discesa discesa dai dopo la porti a mano andrea c'è sempre il video dei corsi si ora lo devo caricare me l'avevo dimenticato oh basta aspetta metto il cavalletto ho messo il cavalletto